Ma deve essere punito. O da te o da qualcun altro deve essere punito. Che tipo di punizioni dai di solito alle persone? Sono già state date punizioni a sufficienza, non è così? Sono già state date, la cattiveria, la malignità, i silenzi, è successo di tutto. Quindi che altra punizione vuoi dare? Il tuo problema è che non c'è rimorso dall'altra parte. Non c'è rimorso dall'altra parte perché le persone fanno quello che vogliono fare, non quello che tu vuoi che facciano. Sempre. E ciò potrebbe non essere nel tuo interesse, ma loro fanno quello che vogliono fare. È giusto? È sbagliato? Non voglio entrare nell'aspetto morale. Voglio che tu capisca i meccanismi della situazione. Qualcuno sta facendo quel che vuole fare. Ora tu pensi, devono essere puniti. Probabilmente non hanno infranto nessuna legge, altrimenti verrebbero puniti in ogni caso. Stanno infrangendo un'intesa tra due persone. Probabilmente tu hai frainteso l'intesa. Credevi che queste intese fossero assolute. non lo sono. Mai nella storia dell'umanità, o al giorno d'oggi, o in qualsiasi momento nel futuro, le relazioni umane saranno assolute. Nonostante ogni persona che diventa un po' romantica creda che questa sarà una relazione assoluta. Non esiste nulla del genere. a riguardo. Una relazione è una variabile. Sempre. La devi condurre giorno dopo giorno. Se un giorno non la conduci come si deve, potrebbe prendere un'altra direzione. Sì o no? Sì o no? No. Per favore, guarda le cose come stanno. Devi condurla nel modo giusto. No, sto facendo del mio meglio. Ovviamente alcuni pensano che il tuo meglio non sia abbastanza per loro. voglio che tu faccia i conti con questo. Qui non si tratta di... Non dico che quello che stanno facendo sia giusto o sbagliato. Non aspetta a me dirlo. Sto solo dicendo che è così che gli esseri umani funzionano da secoli e continuano a farlo. Sto dicendo che prima di tutto devi capire che le relazioni non saranno mai e poi mai assolute. Che saranno variabili. Che è il giocoliere che devi fare. Se fai il giocoliere con cinque palle ogni tanto una ti scapperà. Ci vuole molta abilità e attenzione. Sì o no? Molti di voi sono sposati. Non ci vuole molta abilità e attenzione. Se non fai attenzione non sai che diavolo sta succedendo. Ci vuole molta attenzione. Non è così. Qualcuno mi ha appena chiamato da un paese in Europa e... Sadguru non faccio altro che faccende domestiche vieni a salvarmi. Portami via nel tuo ashram. Non faccio altro che lavori di casa. Stava lavando piatti e cose simili. Molto benestante ma ha quattro figli quindi c'è sempre qualcosa da fare continuamente. E oggi la donna delle pulizie non è venuta quindi devi lavare i piatti. Ci sono quattro bambini e tu devi lavare i piatti. Devi lavare tutto. Quindi sto dicendo devi capire questo. Una relazione è una realtà variabile non è una realtà assoluta. Se vuoi avere una relazione assoluta devi stringere relazione con i morti. Questa è la ragione per cui tanta gente sceglie Dio. Perché è un assoluto. Puoi gestirlo come ti pare. se non pensi a lui per dieci giorni e l'undicesimo giorno lo pensi lui è ancora lì. Fai così con tuo marito o tua moglie o qualcun altro allora succederà qualcosa di diverso. Sei sparita e rioccupata e ti sei dimenticata di Dio per tre anni. Poi lo pensi di nuovo è ancora lì. Quindi se vuoi avere una relazione assoluta devi non dovresti scegliere esseri umani. Le relazioni umane sono variabili richiedono molta attenzione ecco perché alcune persone decidono che nella loro vita non hanno il tempo e l'energia per gestire queste cose e quindi scelgono un'altra strada dove non ci sono questi obblighi chiudono gli occhi sono da soli non gliene importa di chi o di che cosa c'è attorno a loro ma tu non riesci a farlo quindi penso nel cercare di punire qualcuno finirai solo col punire te stessa. Loro stanno facendo quello che vogliono fare la cosa migliore è che tu capisca cos'è che vuoi veramente dalla tua vita non devi reagire con loro e fare qualcosa di stupido come loro devi solo sederti e osservare. quando le tue illusioni vengono infrante e sei disillusa ora è un'ottima cosa. Se le tue illusioni sono infrante significa che la vita ti sta portando più vicino alla realtà non è così. Quindi questa è un'opportunità per te per sederti e vedere qual è la natura della mia vita perché è così. Vedi questo pezzetto di vita è un pezzetto di vita completo non è così? È forse una mezza vita? Sei una mezza vita o una vita intera? Intera Perché allora sembra così incompleta tanto che occorre un'altra persona per riempire questa vita? Come mai? È ora di affrontare la cosa non è così. Se questa è una vita intera è completa di per sé ma ora l'hai resa in modo tale che questo non può esistere senza di quello e quello e quello quindi in qualche modo è una vita incompleta o almeno non ha realizzato la pienezza della sua natura non è così? Questo è un pezzetto di vita completo che contiene creatore e creazione insieme grandissima combinazione se tu questo è un momento in cui la vita bussa alla tua porta così è il momento di osservare più a fondo piuttosto che reagire e cercare di aggiustare qualcun altro punire qualcun altro non trasformerà la tua vita non la renderà più bella in nessun modo avrai una qualche malsana soddisfazione per due giorni e dopo ti sentirai in colpa anche per questa sì? all'inizio quando l'emozione è calda ti dà soddisfazione dopo un po' di tempo quando ti guardi indietro ti vergognerai di te stessa quindi non prendere questa strada questa è un'opportunità qualcuno sta aprendo una dimensione spirituale per te davvero qualcuno ti sta facendo realizzare quanto siano fragili tutte queste cose ti possono tradire possono scappar via possono divorziare o possono morire non è così se muoiono non penseresti mi hai tradito o lo penseresti no ma in ogni caso ti viene negato non è così la cosa importante è che ti viene negato qualcosa come l'ha fatto non è il problema ti ha negato qualcosa o con la morte o con il divorzio o con il tradimento o come lo vuoi chiamare ma essenzialmente ti viene negato qualcosa può esserti negato solo perché sei in un certo stato illusorio in cui credi che questa sia una vita a metà e abbia bisogno di un'altra metà da qualche parte no questa è una vita completa se sei sbocciata come una vita completa noterai che le relazioni saranno di una natura completamente diversa sarà più uno stare insieme e condividere non un'estrarre qualcosa deve trasformarsi perché se trasformi tu devi trasformarti questa è una grande opportunità che qualcuno ti ha dato smetti di usare queste parole qualcuno mi ha tradita di solamente che qualcuno ti sta spingendo verso la realtà massima partendo da uno stato illusorio dobbiamo ringraziare questa persona devi esserne grata invece di tenerti invece di tenerti nell'illusione invece di tenerti nella tua vita per tutta una vita te lo fanno realizzare così presto altrimenti l'avresti scoperto in punto di morte sì l'avresti scoperto in punto di morte mentre stai morendo ho paura perché non vieni con me lui dirà no quindi invece di scoprirlo all'ultimo momento è meglio saperlo adesso l'avresti scoperto